Oggi ho deciso di fare un blitz. Afferro la pratica sulla scrivania e mi avvio percorrendo il lungo corridoio a passo svelto, busso ed entro senza preavviso. Il direttore sorpreso arrossisce, non ci sono sedie vuote davanti a lui, quindi mi aggiusto sul bordo dell'armadietto basso accanto alla scrivania. Di fronte a lui ci sono mio zio e il presidente. È sceso oggi a valle per la riunione settimanale degli azionisti. Mio padre invece è leggermente indisparte. Non potranno dirmi di no. Li aggiorno riguardo alla trattativa con General Motors, racconto che mi hanno chiesto di andarli a trovare per farmi vedere le macchine già installate, capire la configurazione delle nuove che dobbiamo offrire. Sottolineo che è un confronto necessario. Silenzio. Non dico che l'altro giorno ho chiesto a Batch se avesse senso partecipare all'incontro. Use your best judgment, mi ha risposto lui. Beh, se lo facessi direi che hanno già 21 macchine, perché dovrebbero scegliere un fornitore nuovo? Allora le avevo convinti con la tecnologia, ma comprarono dai cinesi per il prezzo. Insomma, decisero i burocrati degli acquisti, non quelli come io li chiamo i muli della fonderia. Non ho terminato la relazione che già mio padre mi interrompe. Con GM siamo ripetenti. Ci avevano preso in giro, aggiunge il presidente. Macchine cinesi alla metà del nostro prezzo, ma non ci avremmo pagato nemmeno la materia prima, aggiunge mio zio. Mentre si liscia i folti peli sotto il mento che gli hanno valso il soprannome di Barba Rossa. Ma com'è che quando eravamo giovani comandavano i vecchi e adesso che noi siamo vecchi comandano i giovani? Chi si stupisce a leggere la cronaca dei due nipoti accusati di aver buttato lo zio nel forno fusorio non è mai stato dove convivono due famiglie. Qui per mia fortuna i collaudi li facciamo a vuoto, cioè simuliamo il ciclo a freddo senza fondere l'alluminio. 40 anni fa Urano, il presidente, come lo chiamo io, aveva messo i soldi concedendo ai due titani, lo zio e mio padre, il 30% e la gestione dell'azienda. Il patto tacito aveva solo due regole. Le mogli stanno fuori e voi non dovrete mai litigare. Una volta in frante è arrivato lui, il manager esterno, l'ingegnere Cesare Cagnoni. Mio padre è rimasto amministratore delegato ma non ha più un vero potere. Il potere oggi è nelle mani di Cagnoni. In tutte le famiglie la fidanzata nuova, il futuro marito, l'amante sono come un parafulmine, deviano invidie, gelosie, fanno nascere alleanze inedite tra parenti. Dice bene Alessandra, la mia collega, in effetti qui da noi l'arrivo del manager Cagnoni ha subito fatto cambiare nemico allo zio. Non siamo più io e mio padre. Anzi, adesso lui sollecita riunioni della sacra famiglia compatti, compatti come un blocco, visto che adesso siamo una minoranza, come ci hanno definito nell'ultimo consiglio di amministrazione. Eppure lo zio mi ha criticato per decenni. Fu il primo a dichiararsi pronto a collaborare col nuovo direttore, pensando che avrebbero fatto fuori il fratello, del resto immagino non aspettasse altro, soprattutto insieme a mia zia che lo lavorava ai fianchi da anni. Ecco, chissà quando mia madre e mia zia hanno smesso di scambiarsi gli inviti reciproci a pranzi e cene dove gareggiavano a suon di ricette. Credo fosse molto prima della morte di mia mamma. Però io ricordo bene due frasi della zia. Siamo anche noi due padrone là, eh? E poi anche glielo dico ogni giorno. Devi farti valere! Rivolta ovviamente a suo figlio, mio cugino, convinta che il pargolo fosse messo in ombra dalla mia prevaricazione e non dalla sua fannullaggine. E dire che da bambini abbiamo condiviso mille caccia al tesoro, picnic, fortini nei boschi, pomeriggi di sudore, singhiozzi, il sangue dal naso, il vomito per la troppa acqua di frigo. Poi è entrato in azienda, anziché sollecitargli una sana competizione. La mia voglia di distinguermi, i miei successi lo hanno intossicato di invidia. Sì, forse dovremmo parlarci di più, lo so, ma sono stanco di doverlo fare sempre io, di sentirmi a disagio se ricevo gli elogi del presidente perché ho preso un ordine, oppure se i clienti chiedono di parlare con me. Vietato distinguersi e primeggiare. Stesso stipendio e ruolo per tutti. Logorante da sopportare. A mia zia, mia madre rispondeva invece col silenzio e faceva la vestale in pubblico e a fianco del marito solo se lo chiedeva a lui. Altrimenti a lavello, alla lavatrice, ai fornelli dove schiumavano le marmellate, a stender la biancheria giù nel vano della caldaia, a preparargli la colazione, girando l'ovetto sbattuto o il cucchiaino con la pappa reale dentro al caffè, a fargli lo shampoo il sabato per togliere il giallo dai capelli grigi, a spadellare pranzoni per tutti i parenti, le torte, le macedonie con la frutta pelata d'estate o i minestroni con la verdura fresca d'inverno. Aspettava il guerriero che tornava dai viaggi di lavoro con la cartolina in mano. Sì, per lui era inutile metterci un francobollo visto che sarebbe tornato molto prima dell'arrivo della cartolina. Ogni sera appendeva al servo muto la giacca, i pantaloni stirati con la riga, la camicia bianca con le cifre in corsivo inglese e le stecche nel colletto. Allineava le scarpe a coda di rondine ben spazzolate. L'azienda è l'amante, l'amata di tuo padre, mi disse in una delle sue rare uscite. E in effetti io non li ho mai visti abbracciarsi, darsi una carezza, dirsi delle parole d'affetto. Il nostro dialetto tra l'altro è la lingua dell'utilità, non ha traduzione dell'espressione ti amo, un connubio perfetto con il pensiero calcolante di mio padre che non capiva mai l'utilità di un mazzo di fiori freschi. Tanto appassiscono. Mi mancano due esami alla laurea e mi sembra incredibile che io ci sia riuscito lavorando. Lavorando con una famiglia, studiando la sera sugli aerei nei fini settimana. Mio padre non lo sa che voglio laurearmi. Nel luglio di decenni fa trovai il coraggio di dirgli che volevo iscrivermi a lettere, anche fiero del doppio nove che avevo ricevuto nel tema e nell'interrogazione di italiano alla maturità. Lettere? Cioè vorresti fare il barbone a vita? Guarda ti lascio fare le vacanze ma dal primo settembre l'università la fai qui con me. papà la professoressa di italiano mi ha detto che quando ero direttore di banca venne da me un professore di lingue morte, doveva prendere la cucina nuova per la moglie, mi chiese un finanziamento. Allora io avevo bisogno di una garanzia e lui continuava a parlarmi della sua cattedra di latino e greco alicio classico, del fatto che era direttore dell'Ateneo, segretario del centro. No, bravo, bravo, complimenti professore, complimenti, ma io intendevo qualcosa di intestato. Ecco lui niente, la moglie un appartamento in montagna, ecco bravo professore, sia gentile, eh? E quindi ho fatto venire lei a firmare la fideiussione. Ai figli di imprenditore è vietata la vocazione, Silvia compresa, ex compagna di liceo che in quanto femmina avrebbe potuto fare quello che le piaceva grazie al diritto di maggiorasco, ma era figlia unica e nemmeno suo padre la voleva laureata. Era la fabbrica la scuola migliore e anche fare figli sarebbe stato un freno. Se li crescessi con lo stesso impegno e le ore che metto in azienda, ah non andrebbero dallo psicologo, mi disse una volta parlando dei suoi ragazzi. Un tempo le aziende erano di chi le possedeva, oggi di chi le gestisce. Ma io credo anche che lasciare l'azienda a tutti i costi ai propri figli possa essere un limite. Le aziende per cambiare devono eliminare la famiglia che le comanda. Troppe posizioni spettano di diritto ai titolari, ai loro figli, cugini, nipoti, seppure questi siano incompetenti. Mio cugino, bocciato in quarta, è diventato ragioniere grazie a un diplomificio privato in cui ha fatto due anni in uno. Mio zio, dopo l'elementare, si è iscritto a una scuola di avviamento professionale e non si è mai più aggiornato. Ha sempre esibito il primato dell'esperienza pratica e anche l'arroganza che bastasse questo per dirigere interi reparti. A Pavia io sognavo di laurearmi con Cesare Segre. Avevo scoperto i suoi saggi di strutturalismo e semiotica filologica grazie alla professoressa di italiano al liceo. Ecco, se avessi avuto quel Cesare come guida, anziché Cesare Cagnoni, chi sarei oggi? Grazie. Grazie.